Non è che ci sia la tragedia dietro l'angolo. Com'è andata la riunione di centrodestra? Io l'acqua la compro solo in bottiglia di vetro, se le può dar soddisfazione. Più oggi. Non dico il marchio, sennò poi dicono che faccio conoscità. Influencer. Io sono assolutamente a favore della riduzione, intelligente, perché alcuni provvedimenti, lo dico da europarlamentare nel nome della tutela dell'ambiente, approvati a Bruxelles, hanno limitatamente aiutato l'ambiente, ma hanno disastrato interi comparti economici. Ma lo facciamo? La bustiamo io questa plastica? La plastica? Adesso vado a casa, ma è preoccupato? Adesso apro il frigo e guardo che la posso fare. Senta, mi ne so... Giuro, giuro, oggi aprisco... Ehi supermercati, amica mia, possiamo dare dei suggerimenti, delle indicazioni, però non posso chiamare il signore Selunga o il signor Carrefour e dirgli che cosa venderebbe. Ma, posso fare qualche legge? Sì, sì. Ci penso. Ci penso, giuro. Com'è andato l'incontro con il leader del Centro d'Astra ieri contro Young? Ma avete deciso tutti i candidati? Abbiamo mangiato un sacco di cioccolato. Il Piemonte l'ha deciso? Quasi qui. Quasi qui. Grazie. Grazie.